Sono Stefano Rivoli, sono Product Manager Video System di Bosch Security System, seguo questa linea di prodotto ormai dal 2003. Bosch Security System si occupa di vari ambiti, non solo di videosorveglianza, ma di sistemi di audio evacuazione, rivelazione incendio, sistemi congressuali e sistemi di antintrusione, quindi opera un po' a 360 gradi nel parco sicurezza. Realmente all'interno del portafoglio prodotti propone anche delle piattaforme di video management e di controllo accessi, che però normalmente in Italia non commercializzano. Nel mio ambito specifico come videosorveglianza l'azienda sta facendo forti investimenti su quello che è l'alta definizione come standard, quindi parlare di alta definizione significa avere prodotti che sono conformi allo standard in termini di risoluzione, in termini di colorimetria, in termini di 16-9, quindi formati di visualizzazione, ma soprattutto avere prodotti che già di per sé offrono servizi, quindi avere l'intelligenza di analisi video a bordo e non per ultimo pensare di poter usufruire di beneficio dell'alta definizione anche in applicazioni remote, quindi con oggetti, soluzioni hardware o software di trascodifica per dare la possibilità della vera mobilità da remoto con la possibilità di riprodurre dei video che sono in alta definizione ma poterli anche vedere. È una tecnologia un po' avanzata che però spero occasione di poter comunicare, renderla un pochino più fruibile a tutti. Siamo presenti in fiera con differenti tagli di aziende che seguono magari un canale installativo, un canale sistemistico e quindi per mezzo dei prodotti cerchiamo di indirizzare le varie applicazioni grazie anche all'integrazione con software di terza parte. Diciamo che Casa Madre ha un portafoglio di prodotti molto più ampio, poi a seconda delle capacità delle singole organizzazioni nazionali decide di implementare tutte le soluzioni e una parte di queste.